ciao a tutti buona domenica da campanaro 67 eccomi di nuovo nelle nostre barche a castelplanio a dir la verità mancava questo video e sarebbero i tocchi discendenti dalla quinta alla prima della parrocchia di san sebastiano appunto qui a castelplanio non sono da solo oggi addirittura è venuto un nostro carissimo amico dal veneto campanaro veneto Gianmarco e sopra di me c'è l'immancabile francesco musicista 97 e adesso aspettiamo le 11 10 per questo ultimo segna penultimo segnale messa che sono appunto i tocchi mi mancava questo mi mancava quindi ma piccola chicca così almeno lo aggiungiamo al a quelli fatti praticamente non so se ricordo un anno o due anni fa bene per il momento da castelplanio è tutto e alle prossime ciao ciao fa freddo ragazzi fa freddo è il 3 gennaio che se non fa freddo adesso alle prossime ciao 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 alle prossime dimenticavo adesso alle 11 e un quarto suoneranno i tre tocchi sulla mezzana sulla seconda ciao a tutti ecco qua, tutto qua e adesso è veramente tutto bene adesso vi saluto veramente e alle prossime riprese ciao ciao